Alle 13.20 i vigili del fuoco sono intervenuti presso lo scalo ferroviario di Vicenza per soccorrere quattro persone che si trovavano all'interno di un carro merci proveniente dalla Serbia. L'allarme è scattato in stazione quando alcune persone hanno sentito il rumore e le grida di aiuto provenire dall'interno di uno dei 25 carri del treno fermo in sosta tecnica. Il convoglio è stato spostato su un binario non elettrificato per permettere i vigili del fuoco di intervenire. Le quattro persone che si trovavano in un unico carro pieno di cereali sono state estratte dai pompieri dal passo Duomo in discrete condizioni. I malcapitati di origine nordafricana sono stati assistiti da personale del 118 presenti con l'ambulanza. Tutti e i 25 i carri sono stati controllati dal personale dei pompieri per escludere la presenza di altre persone. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono state coadiuvate dal vice comandante Giovanni Vassallo e dal capo turno. Sul posto la polfer e le pattuglie della polizia di stato che hanno preso in consegna le persone per l'identificazione.